La De Corsa Notte, la compagnia Carabinieri di Catania Fontana Rossa, con il necessario ausilio di alcuni reparti specializzati dell'arma operante in Sicilia, ha eseguito 10 misure cautelari personali disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e che hanno riguardato alcuni soggetti presunti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. L'operazione di polizia, regolarmente svoltasi nel cuore della notte, è da considerarsi come risultato concreto e tangibile di una intensa e delicata attività di indagini che è stata avviata ad ottobre del 2020 e conclusa qualche mese dopo da parte dei militari della tenenza di Mister Bianco con il coordinamento della procura distretto all'antimafia atenea. L'indagine in particolare ha consentito di individuare i presunti autori di una serie di estorsioni che sono state commesse con le modalità operative tipiche di un'associazione di stampo mafioso ai danni di due imprenditori operanti del comune di Mister Bianco ed in particolare nel settore della vendita e riparazione di automobili. Alle vittime di estorsione veniva imposto il pagamento di una somma di denaro da versare con cadenza mensile e commisurata anche alle capacità economiche dell'azienda sostanzialmente per due ordini di ragione, vale a dire per il sostentamento di alcuni detenuti in carcere ovvero per garantire la protezione delle attività commerciali prese di mira mettendoli in tal modo a riparo da possibili azioni ritorsive o delittuose. Nel proseguo dell'attività di indagine sono emerse anche alcune estorsioni ai danni di privati cittadini, vittime inizialmente del furto nel proprio veicolo e successivamente di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno in quanto costretti per il tramite di alcuni intermediari ben inseriti nei circuiti criminali locali a corrispondere un prezzo prestabilito, variabile anche a seconda del tipo di veicolo rubato per poter rientrare in possesso del bene che era stato loro indebitamente sottratto. In conclusione è stato anche accertato il convolgimento di alcuni indagati in altre attività delittuose ed in particolare nella detenzione ma soprattutto nella compravendita all'ingrosso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacente evidentemente destinati al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti a Catania ma anche nell'Interland.